Penso che alla fine sia inevitabile, se si vuole limitare il contagio penso che sia inevitabile e siano inevitabili tutte le tutele che il governo e la regione hanno adottato. Chiaramente subiamo questa cosa però la capiamo nella speranza che chi avrà danno da quelle che sono queste limitazioni, queste prescrizioni, poi comunque abbia anche il giusto ristoro da quello che è lo Stato, da quello che è la regione. Chiaramente noi siamo al confine proprio con l'Emilia Romagna, siamo l'ultimo paese a nord delle Marche e quindi diciamo che il limite al passaggio tra regione e regione per noi è acuito perché comunque abbiamo rapporti di vicinato, rapporti economici di lavoro e anche di parentere con i paesi della vicina Romagna ma anche della vicina Toscana perché anche il comune di Sestino è vicino a noi. E quindi li sentiamo in maniera particolare e per quanto riguarda il discorso del turismo anche questa chiusura degli impianti sciistici in qualche modo ci riguarda molto da vicino perché tutto il comprensorio del Monte Carpegna quindi tutti i paesi che comunque sono interessati dalla presenza di turisti legati all'attività dello sci e della neve hanno per questa mancanza avremo sicuramente un danno economico. Quindi sia noi che Montecopiolo, Pietrarubbia ma anche Pennabilli nella vicina Romagna. Ecco dicevo purtroppo sono misure che secondo me sono inevitabili e il governo deve essere bravo e attento a far fronte alla mancanza di queste risorse economiche che verranno a mancare per il mancato arrivo dei turisti e provvedere ai dovuti ristori. Grazie. 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 Grazie.